Grazie a tutti. 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 Ma in fondo la nostra umanità, che è quella che abbiamo tutti noi nel nostro cuore, che io chiamo il punto bianco nello cuore dell'uomo. E' quella data di Dio, che sia Dio per i musulmani, sia Dio per i cristiani. Questa dimostrazione io vedo tantissime volte. Possiamo vedere dei bambini. E' un bambino, più alto due mesi fa stato mentre lavoravo, e lavoravo anche per ministri interi italiani. In questura, mentre lavoravo, arrivati due signori, una nigeriana e una russa, avevano due bambini. La nigeriana aveva una bambini da 6 anni e la russa avevano una bambina di 5 anni, hanno lasciato i bambini per 5 minuti da solo in corridoio, la questura. E questa 5 minuti servivano a questi due bambini, giocavano insieme, sono diventate 10, uno giocava con l'altro, la signora russa ha preso il suo permesso, uscita ha portato il suo bambino. E' questa ragazzina nigeriana che aveva 5 anni e viene da me e mi fa così. Sì, io sì sì o no? Io guardavo così. Cosa c'è? Mi chiede, dove è un mio amico? ho detto, cazzo, come guarda questi bambini non conosce quei cinque anni e quell'altro, chi colore ha che religione ha ma le chiama e gli dico cinque minuti il desiderio non ha mai perso e qui non ha il cuore che il vero Dio dona a noi, o ma e poi nel percorso della vita che facciamo casini, distruzione, tutto, tutto poi usiamo il suo nome per distruggere quell'inferenza che il Dio non ha io ero come tutti i bambini da me nato con un cuore così bianco totalmente bianco ma con una differenza piccola differenza che ero nato in un periodo nella storia dell'Afghanistan in un periodo spagliato nella storia dell'Afghanistan nel 1986 sembro vecchia volta ma trent'anni da quando sono nato è cominciata la guerra civile in Afghanistan e i di Mugeilini i famosi Mugeilini i combattenti per Dio perché nel mondo prima del 79 non esisteva il fondamentalismo quello che adesso chiamiamo fondamentalismo poi in Europa proprio abbiamo confuso il significato del fondamentalismo significato del fondamentalismo in Europa islamista fondamentalista basta quando sono arrivati Mugeilini nel mondo non esisteva la parola fondamentalismo islamico lascia la parola fondamentalismo islamico in Afghanistan della linea di Mugeilini quando Mugeilini caccia via i russi prendono il potere Mugeilini si dividono i 24-25 gruppi da quei gruppi di Mugeilini si dividono il bin Laden il famoso bin Laden perché faceva parte di Mugeilini si dividono proprio su cui d'Al Qaeda molto uno si dividono proprio gruppi di talibani altri 23 gruppi che Europa non conosce ma sono gruppi che molto sono più violenti del gruppo d'Al Qaeda e molto sono più violenti del gruppo di talibani si dividono e comincia la guerra civile in Afghanistan una guerra dove hanno perso fino adesso più di 3 milioni di umani in Afghans una guerra che nessuno non parlava per loro tantissimi interessi internazionali io sono tanto internazionale io mi ricordo da piccolo tantissime volte tantissime volte non potevo uscire da sottoterranei da casa per le settimane venivano bombardamenti missili solo sentivo colpi delle bombe che buttavano sentivo solo rumore dei carammati che passavano poi in radio dicevano che poteva potete far uscire i bambini o la famiglia da questa ora fino a questa ora dopo 2-3 settimane le famiglie permettevano i bambini di uscire noi quando uscirono vedevamo la luce dopo 3-3 settimane quando uscivo vedevo buttati cadavere a terra donne violentate nella strada in realtà nessuno non lo sa quando uno vede tanta violenza nella sua vita la violenza fa parte della sua vita perché la violenza fa parte della tua vita perché tu non conosci un altro mondo altro mondo è perché un muro dietro un muro non lo sai cos'è cosa esiste un altro mondo esistò come noi uccidente voi siete presentati il nostro paese ma non attraverso vostra grande identità o la vostra vostra grande ricchezza ma voi siete presentati attraverso gli eliti che venivano bombardati io conoscendo l'uccidente attraverso gli eliti che venivano bombardati io non conoscevo la vostra grande identità la vostra grande tutta l'identità tutto l'incontro la conoscenza nasce dall'incontro se non hai probabilità non hai possibilità di incontrare l'altro dietro un muro non sai che esiste e tu mi ambiti di quella vivi in quel periodo mi ricordo quando era piccolo la piccola che aveva un disiderio più grande volevo diventare un guerriero perché sempre vedevo i soldati di mio padre che venivano con i militari sempre quando loro vedevo come i siti militari armi il calasico a mano io sempre avevo un disiderio di mettere il guerriero come noi perché la piccola fortuna che ho avuto piccolo perché ero nato cresciuto in una famiglia potente io sono nato in una famiglia mio padre era anche adesso un dirigente che ha molto dell'Afghanistan e uno di capi di Mujain combattenti per dirvi ma la violenza è lo stesso mi ricordo dall'età di 6 anni 6-7 anni ero già capace montare e spuntare il calasico e avevo l'età di 7 anni i miei giochi che i bambini qua in Europa giocano con bambini altri nostri giochi e dice all'età di 9 anni mi ricordo quando altri gruppi attaccavano sulle case perché erano stati reddivisi centinaia di gruppi quando attaccavano sulle case io lo prendevo il calasico a mano andavo sopra il tetto della casa con tutti i soldati di mio padre e li prendevo la casa e questa è la nostra vita è stato 8 anni questo è l'episodio non dimentico mai perché penso poi quando uno vede la violenza nel percorso della sua vita la violenza poi non è difficile di dimenticare pensi che l'ho visto ieri avevo in Italia da un parli mentre giocavo con i miei amici davanti alla casa noi viviamo in capitale dell'Afghanistan in Kabul vedo il jeep fermato sono scelti 5 persone armate con divisa militare trascinavo con una ragazzina dopo 14 anni di caperì le hanno portato un angolo quando noi vedevamo questa violenza andavamo a guardare perché in tempo di Mujaydin in tutte le vie di Kabul succedevano spettacoli tagliavano le teste bucavano le teste tagliavano le tette delle donne in tempo di Mujaydin un gruppo armato quando prendevano le persone da altri gruppi portavano nel piazza tagliavano la testa mettevano olio bollente sul collo mettevano la musica il cadavere muovevano li chiamavano banni del morto prendevano le persone portavano la testa nella strada tutta la violenza succedevano nelle vie di Kabul e centinaia di persone guardavano queste violenze quando ho visto che trascinavano queste ragazzine in angolo io ho tanti curioso non andate seguitelo vedo quattro loro violettavano queste ragazzine uno di loro mi disse che stavo guardando vicinato per dare un schiaffo per mandare le vie e uno di loro urlato ha detto non toccarla perché fine di centraria lui ha preso il kalashikov ha tolto il salvatoio mi ha dato un puroiettile per farmi mandare le vie e quel momento quel puroiettile aveva un valore più tornato con la violenza perché totalmente ridibito antiviolenza in tempo le Mujedin vanno così con la violenza con tutto odio da già nel 1994 o 1995 il rapporto fra America e le Mujedin si interrompe perché le Mujedin quando andavano in Messina d'Afghanistan da Russi era un unico gruppo poi si dividì i 24 gruppi scappato dalla catena americana perché un gruppo un gruppo con Iran un altro gruppo con la Russia un altro gruppo con altri paesi con la Russia tutto tutto e scappato dalla catena America voleva unico forse in Afghanistan e questa cosa l'America questa volta non interviene direttamente perché con le Mujedin sono venuti direttamente aiutate questa volta chiede aiuto dal cancro del midi oriente quando parlo del cancro del midi oriente parla della rabbia subito la rabbia subito finanzia finanzia da prima anche dal tempo di Mujedin nel 79 fino all'estrano sempre finanziato in tutti i gruppi fondamentalismi nel mondo e direttamente finanziato grande aiuto dell'Arabia subito e con grandissima aiuta del governo del Pakistan ISAAC sempre perché credo che è credo i famori di i studenti coranici tra confine tra Afghanistan e Pakistan cominciano a lavorare nel 95 su questi studenti coranici che non mancavano soldi i dollari dell'Arabia subito e le armi americani dal 1996 i talibani prendono il suo potere attaccano sull'Afghan con grande aiuto del servizio segreto del Pakistan e del governo del Pakistan prendono e conquistano il 95% del territorio afghanico quando i talibani interno in Afghanistan i fratelli tutti scappano perché noi facciamo parte di Mujedin prendono mio padre e mettono in carcere perché mio padre faceva un indigeniale famore di Mujedin mettono in carcere privato di Mullah Oman leader sconosciuti di talibani mio mamma mi prende e avevo circa 11 anni la prima parola che mi ricordo mi disse mi porto dal quartiere che mi vivono i ricchi mi porto dal quartiere dei poli la prima cosa che mi disse mi dice non devi dire nessuno che tu chi sei in quel tempo quando qualcuno mi diceva chi sei tu io dicevo mio padre che ho parato io sono figlio di uno parato che mio padre che ho parato in Pakistan in tempo dei talibani cambia tutto quando i talibani entrano in Mujedin come tutti i gruppi di fondamentalistine come oggi parlavamo vanno contro due cose la prima cosa l'educazione i talibani la prima cosa che hanno fatto chiudono tutte le scuole donne e uomini tutte le scuole chiuse la seconda cosa che vanno il fondamentalismo contro la libertà delle donne perché il fondamentalismo sempre va a paura della libertà delle donne perché la libertà dell'uomo viene dalla donna immaginate una mamma una mamma sia cristiana musulmana italiana afghana non significa mai una strada sbagliata per il suo figlio quando tu sottometti la donna tu sottometti la mamma tu prendi quella libertà educativa il figlio attraverso la porta i talibani quando sono entrati in Afghanistan la prima cosa che hanno fatto sottomessi le donne le hanno fatto diventare obbligatorio la buca una ragazzina da 13 anni era obbligata a mettere la buca una ragazzina da 13 anni il tempo il talibani non poteva uscire più da casa se una donna ha malato il tempo del talibani una malattia grave deve essere accompagnata dal marito fratello suo padre se vedeva una donna da sola nella strada la giù stava e noi io che avevo 11-12 anni per noi uomini tutte le scuole chiuse è diventato obbligatorio andare nelle scuole corattiche mi ricordo facevano obbligavano al sala e mi alzavo le 5 di mattina andavo nelle moschee che era la vicina casa nostra e cominciavano dalle 5 di mattina fino a 3 di pomeriggio insegnavano il corano il corano scritto in lingua araba la nostra lingua in afghanistan non è la lingua araba la nostra lingua è la lingua è la lingua è la lingua due lingue totalmente diverse dell'arabe se qualcuno mi mette il corano davanti io non capisco cosa ha scritto perché non è la lingua la mia lingua è la lingua araba ma la tradizione del corano in tempo del talibani era legale tu non potevi dare un corano nella tua lingua tu dovevi ascoltare i mullati e ti insegnare il corano ti ricordo che i mullati insegnavano il corano la prima cosa che facevano nelle scuole coraniche ti facevano memorizzare il corano con solo i bambini che memorizzavano tutto il giorno il corano e poi parlavano del paradiso ti facevano creare di Dio nel mondo abbiamo ormai abbiamo due Dio un vero Dio che ha creato noi che pochi da noi creiamo un Dio che noi abbiamo creato il problema più grande del mondo è il Dio che noi abbiamo creato nella scuole coraniche facciamo memorizzare il corano poi un lato che il corano ha scritto se tu uccides di fedele tu hai il paradiso se tu partecipa all'abitazione Dio ti diminuisce il peccato immaginate che i bambini e i bambini tutto il giorno dalla cerchia di mattina per il tre di pomeriggio una società che viveva tutto così vivendo con questo mondo arriva il momento che tu eri convinto di uccidere il fedele e lo convinto che partecipa all'abitazione Dio ti diminuisce il peccato perché il tempo del talibano quando parlo del governo dei talibani non parlo di un governo finto come l'estate islamico adesso ISIS ISIS un'estate finto ISIS crea potente una storia finita se andiamo a fondo l'ISIS non sono più di 5.000 persone ma quando parlo del governo dei talibani guardate che i talibani controllano 25 milioni di persone in Afghanistan avevano un governo ma con una differenza aveva un leader molto umano e nessuno non l'ha visto come ha comandato 25 milioni di persone in tempo del talibano facevo parte del governo del talibano di sicurezione in tutti le strade e in tutti i privici dell'Afghanistan in tempo del talibano si è rubato e portavano e tagliavano la mano se in tempo dei talibani una persona beve barbolo le portavano 120 frustate se una persona una donna prima del matrimonio andava a Letta portavano le abitavano le donne tutti questi barbari facevano parte del governo talibano e secondo me le stagioni tutte le stagioni di caccia di tutte le province ogni giuvedimento portavano 20, 30, 15 persone applicavano le leggi e centinaia delle persone andavano e vedevano questo spettacolo perché facevano parte del governo talibano non è la verità non è la verità tante persone andavano perché erano pubblicati tanti bambini come noi andavano perché erano pubblicati e gli dicevano il peccato poiché non non ci nel tempo delle mani erano quelle per tutti poi quando tagliamo le mani le tessie poi prendevano e poi appendevano le altre quando uscivi dalla città quando uscivamo la città prendevano la testa piede nell'albine nelle vie tantissime volte chi rubava in tempo le talibane la prima di tutto prendevano facevano il nero tutto sul viso poi facevano i girani nella città poi portavano nella stadio e tagliavano la prima poi prendevano nelle vie la mia mamma sempre le diceva che non andare mai in quella stadio gli stava 10 minuti a piedi la nostra casa e tutti i miei amici andavano quando uscivano erano convinti di diminire il loro peccato oggi mi dico nascosto dalla mia mamma perché è curioso perché sempre insegniamo queste cose andare là e diminire il loro peccato e il loro peccato oggi mi dico sono andato nel stadio sono andato nel stadio centinaia di persone che circondavano nel stadio urlano nel nome di Dio erano circa 20 persone che l'hanno portato applicavano una legge hanno cominciato a dare le mani cominciato a dare le teste cominciato a frustare lapidare la prima volta quando sono uscito dal stadio ero convinto che Dio di un minuto mi riccava allora aspettavo la seconda settimana sono andata la seconda settimana la terza volta era l'ultima volta non è che qualcuno mi ha detto non ti va andare a rivedare la terza volta quando sono entrato nel stadio sempre riportavano tante persone un marito ha portato la sua moglie per lapidare questa marina aveva due bambini a mano voleva che i bambini vedessero l'apidazione della mamma così sarà il esempio per loro in futuro i bambini che si rigevano la mano del padre voleva abbracciare la loro mamma la loro mamma circondata che la guarda sotto la burca voleva abbracciare i bambini non le lasciavano e tutti urlavano questa donna deve essere lapidata ma al momento non è che io conoscevo la parola della pietà la parola della giustizia è tutto in quel momento la prima volta non lascia la domanda perché in quel momento quando vedevo i bambini che mi dicevano mi facevano ricordare la mia mano dicevo se loro portassi la mia mano la terza volta proprio sull'uscita del stadio altri punti non andavo qualcosa non mi andavo qualcosa a vicinare il mio istante o qualcosa che mi rinascere la domanda sempre perché ma non mi sapevo perché questo e te portare le mani era il tempo voglio per la umanità solo che nessuno non parlava di quel mondo per tanti interessi nessuno quando io tantissimo adesso vedo sul giornale adesso oppure vedo tantissime parlano dal mondo dal mondo democrazio cittadale nel medio oriente e tantissimo di questo come un mondo patriaco oppure adesso quando parla del fondamentalismo è causa totale che mi ha creato da qua in tempo in tempo di talibani nessuno non aveva nessuna libertà nessuno esiste non esisteva in tempo di talibani ti facevano obbligare cinque volte a pregare al giorno in tempo della preghiera se ti vedevano tu stai camminando nella strada ti frustavano nella strada in tempo di talibani la donna dove sono usciva accompagnata del marito fratello padre sotto alla bocca se vedevano una donna da solo parte del loro comprimivo le frustavano la donna nella strada sempre la presenza della mia mamma se anche in quel momento era un tempo tutto il buio tutta la violenza la presenza della mia mamma sempre mettereva quello che io chiami il punto bianco nel cuore del primo io una cosa profondamente credo ogni giorno che vado avanti sul mio percorso che faccio che ho da ancora più forte se anche nasce un ambito violentico come che sono nato io che vedi solo la violenza nel percorso della tua vita nasci con un cuore bianco ma quando vedi la violenza il tuo cuore diventa totalmente nero ma il vero Dio sempre mette un punto bianco nel tuo cuore e quel punto bianco nel tuo cuore può arrivare solo alla domanda perché e poi tenere acce a quel punto bianco nel mio cuore sempre nella presenza della mia mamma era molto importante mi ricordo mia mamma quando vedevo che i talibani su stavano le donne in una strada io 12 anni cerca avevo dice mamma mamma quando divento grande mi compri una frustata anch'io vuoi frustare la mia mamma la mia mamma diceva guarda guarda i bambini mentre stanno frustando la loro mamma loro stanno piangendo a te piace loro mi frustano e tu mi guardi gli diceva ma perché mamma loro ti divano frustare gli dice guarda che anche loro la loro mamma non hanno fatto nulla stanno frustando non hanno fatto nulla non hanno fatto nulla perché nel 1999 il 5% il territorio di mani di Mujaini 95% era mani di talibani talibani erano aliati con Iran con Arabia sentita America Qatar Pakistan in Mujaini erano aliati con Iran con la Luzia 5% del territorio era mani di Mujaini mio padre nel 1999 scappa un vicepresidente e il governatore del Herab Ismail Khan scappano dal carcere del Bouloumar il carcere di Milano Bouloumar poi sono aliati nel 1999 Bouloumar con Milano scappa dal carcere o anche in Iran noi attraverso i servizi segreti in Iran scappiamo andiamo in Iran in Iran andiamo la nostra realtà totalmente cambia io avevo circa 14 anni tutti quei criminali quei incidenti di Mujaini sono tutti i loro potenti familiari vivevano in Iran perché i servizi passaggi pagavano tutti il governo iraniano c'è l'afgano e i Mujaini le pagavano l'afgano non sono avendo totalmente cambia io condividero la vita con tutti i capi di Mujaini ex criminali attualmente sono poteri in Alcana condividevamo la vita poteri i pittri i carri tutti che pagavano il governo iraniano in Iran ne accorgevo da tante cose noi cerca abbiamo 10 milioni di emigrazioni afghane dal mondo da 35 milioni abbiamo 10 milioni di emigrazioni nel mondo in cui 2 milioni solo in Iran in Iran un afghano non può scrivere uno scuolo italiano in Iran un afghano non può curarsi uno scuolo italiano in Iran un afghano non può ottenere ricomentino e invece noi figli di Mujaini scuole di Mujaini le ospedali più importanti tante volte dicevano io gli ex amici dicevano ma perché noi si e loro no gli dicevano noi siamo Mujaini siamo mandati in Tiro tutto ciò che abbiamo per il cane i nini vicino a casa nostra di Mujaini vivevano vicino residenti di Mujaini un uomo autorevole nel mondo attualmente un uomo più vicino del per l'uccidente senza lui l'uccidente non non dà nessuna decisione sulla casa vivevano vicino a casa nostra un uomo conosciuto nel mondo islamico nel mondo di Jihad la guerra santa in Akkad un uomo che mandava milioni e milioni di persone per il nome di Jihad dicevano vicino a casa nostra noi avevamo un rapporto stretto con loro venivano a casa nostra noi avevamo un figlio di 16 anni era molto miei amico una sera mentre con il suo figlio giocava a casa loro bussa la porta i servizi segreti i passicini l'hanno arrestato sul figlio più grande che aveva 35 anni hanno arrestato con le donne altro non l'hanno messa in cangia perché l'hanno portata a casa del padre è entrato segretario la disse il vice presidente di Mugelli dice onorevole sono servizi segreti che hanno arrestato sul figlio più grande vuole parlare lui l'hanno fatto entrare il vice presidente sono andati in una stanza circa mezz'ora hanno parlato con questi versicini quando sono usciti dopo un mese sono andati a vicino erano presenti lì il vice presidente cominciò a orlare a suo figlio più grande e se mi ha avvicinato le ha dato un schiaffo fuori e disse a suo figlio tu ho messo un milione di dollari nelle banche hai il passaporto politico nella tasca vai in America vai in Francia vai in Germania fai tutto ciò che vuoi fare vai là e qui non devi fare voi conoscete il fondamentalismo come diceva prima l'islam l'islam è il fondamentalismo io sono nato e cresciuto dentro fondamentalismo nessuno nel mondo non mi potete più di riconoscere il fondamentalismo sono nato dal primo fondamentalismo in la cassa fino adesso sono nato con tutti sono cresciuto con tutti i leader fondamentalisti con molta sicurezza nessun libero e fondamentalista non segue nessuno sono tutti commercianti agendati liberali nel nostro mondo islamico usano la ignoranza delle persone per loro vivere dove toglie l'educazione sottomettere le donne in mondo islamico è molto facile prendere il potere attraverso la religione non avete un riferimento come dico sempre l'islam è una grande religione l'islam è una grande religione ma con un musulmano vero pochissimo possiamo trovare perché se andate l'islam del Marocco cento volte più diversi l'islam dell'Arcansa l'islam dell'Arcansa cento volte diversi l'islam dell'Arcansa sull'Italia da cosa non c'è tutto questo perché non abbiamo un riferimento come avete voi papà fra chi fa non avete un riferimento l'interpretazione del corale è molto facile interpretarlo farli entrare anche dentro la politica come per loro avere il potere e l'Iran aveva così l'ipo il potere è solo tutto mi ricordo l'Iran tutti quelli leader di che mandavano le persone per fare jihad in Afghanistan dove parlavano davanti alle persone parlavano del Dio rapporto con il Dio parlavano del paradiso che se tu saldi in aria ti senti già una casa in paradiso tutti la mandavano centinaia di giovani che si saltavano in aria poi cosa facevano quando venivano in Iran vacanze a casa nostra uno di loro che attualmente un ministero attualmente che manda tantissime persone per fare la guerra stata nel mondo una sera aveva una casa da tre piedi un giorno che cercavo la mia maglia sono andato sotto la camera apro una stanza e lui attualmente un ministero di realità un ragazzino di 10 anni diceva a casa quando ha aperto la porta e chiuso mi faceva ricordare sempre quando lui parlava della guerra stata in 10 anni e quindi sono queste persone dove già dal 1999 l'apporto fra americani i talibani che si interrompe perché i talibani si alleiano con al-Qaeda questa alleanza non va bene tra l'America gli americani già dal 1999 aspetto una scusa per attaccare sull'Afghanistan non può trovare nessuna scusa la prima scusa che trova è il torre gemelli 2001 poi andiamo a fondo del torre gemelli non hanno fatto arabi attrettatori non hanno rabbia suddita non attaccaranno mai sull'Arabia suddita subito sono accorti sull'Afghanistan attaccarlo sull'Afghanistan a nome della democrazia che se c'è la rionese in Afghanistan attacchiamo ma la rionese in Afghanistan nasce dal 79 dal 79 fino al 2001 2 milioni di persone sono morti in Afghanistan nessuno non parlava da quella terra come dice da noi tali non mai america per attaccare sull'Afghanistan lo sa la storia passata dall'Afghanistan imparato che nessuno non ha vinto non ha vinto la Russia da solo ha chiesto l'ha nato di dare l'ha nato attaccare sull'Afghanistan 40 paesi del mondo di cui in Italia decidono attaccare sull'Afghanistan ma l'ha nato con tutta la sua forza 40 paesi per attaccare sull'Afghanistan contro i talibani sono alleati con i milioni precedenti quelli che hanno ucciso due milioni di persone omogenei una bugia totale che hanno detto il mondo che attacchiamo sulla democrazia sono alleati con l'uomo sono assoluti con la tavola con noi hanno detto non frega niente che avete fatto prendete soldi armi attaccate noi abbiamo preso l'Afghanistan nel 2002 tutti l'attacco l'abbiamo preso tutti i familiari di quel criminale che hanno ucciso milioni di persone in Afghanistan sono tutti tornati hanno trovato i poteri in Afghanistan che attualmente hanno il potere in Afghanistan siamo tornati tutti avevano 17 anni avevano una macchina di 180 mila soldi dollari americani per noi figli demogeni erano come carri e buttati noi figli demogeni per divertire andavamo con un enero di 120 persone a 20 persone che divertissero in Dubai per le settimane nel palazzo più costoso in Dubai perché soltanto donne americani che chiamano nome d'aiuto all'umanità a nome d'aiuto per le donne a nome d'aiuto per i bambini tutti andavano nelle tasche dei fondamenti anericchiti i fondamenti le persone sono i miei vicini che adesso parla 20 anni Afghanistan in tempo di prima dell'occidente forse avevano un milione di dollari ognuno dell'ora deserticano 100 milioni 200 milioni di dollari anni dove sono arrivati questi soldi in tutta il nome della democrazia noi avevamo il tempo dei talibani prima dei talibani avevamo 5% il commercio della droga in Afghanistan arrivati i talibani diventato 20% dove i talibani attraverso il commercio della droga anche la facevano con loro tutte le guerre quando è venuto un uccidentale in Afghanistan la Nato tutto aumentata la droga 100% adesso abbiamo 70 miliardi di dollari nell'anno guadagnati dalla droga siamo adesso prima nel mondo questo è l'articolo dal 2003 al 2004 ci devono tantissimi camicalli contro il mio padre perché il mio padre sempre lo ha fatto con il dracca in talibani e il governo di Karzai che è il nostro presidente di Cida da allontanare mio padre dalla politica per un po' d'esempio mandarlo fuori dalla fiatra per un periodo di tempo mio padre diventa adetto per la difesa afghana in ambasciata a Roma fino al 2014 nel 2004 fino al 2004 nel 2005 mio padre chiede tutta la famiglia raggiungerla in Italia mi ricordo la prima volta quando sono entrata a casa mia mamma mi disse fra tre settimane dobbiamo andare in Italia in Italia la prima volta aesimi infedeli no? non potevo dire no perché da noi quando il padre dice una cosa culturalmente non puoi dire al padre no poi mio padre è stato un militare che non mi prevede mai dire una cosa per la paura la prima volta mi ricordo quando sono scesa e mi è forte dopo la vicina vengo la prima volta e vedo tantissimi infedeli del vicino io con questa mentalità sono venuto la prima volta in Italia dice Dio dammi il potere uccideli tutto guardi il paradiso quando una persona mi dà una mano io non le dà una mano dicevo queste infedeli non le dà una mano un po' del piccatore quando vedevo un ragazzo ragazzo che baciavo io su tutta la terra dicevo queste infedeli devono morire la prima volta quando sono venuto in Italia io ho venuto con una mentalità così fondamentalista 100% non è che il percorso della vita fatto in Italia non è che mi hanno fatto cambiare qualcuno che pagano qualcuno mi ha fatto la forza qualcuno mi ha fatto lavare il cervello come facevo in Italia no i piccolissimi gesti quotidiani cominciavano a riflettere cominciare a farle arrivare la domanda perché non un piccolo gesto perché sarebbe un miliardo la vita tanti piccoli gesti cominciavano riflettere la mia vita perché mi ricordo 2006 io sono fratello più piccolo della famiglia ho 4 figli fratelli più grandi e 2 sorelle più grandi lo so mi ha detto che il fratello più piccolo è sempre prendeva su una fratella più grande ma dire questa fortuna saperò una volta da Roma il fratello più grande mi ha detto qualcosa che mi ha dato qualche schiaccio poi sono uscito da casa mentre camminavo e piangero nella via una signora becchia mi vede che gli sto piangendo mi vicina preoccupavo per me che è successo tutto bene mi dicevano mi offre l'acqua mi dicono perché questo infedele preoccupavo per me che sto piangendo la domanda perché mi nasce 2006 altri miei fratelli sono tutti i miei fratelli più grande mio padre voleva che io diventasse un ufficiale come lui in futuro perché volevo una di famiglie di essere militare come lui e per questo mi iscrive nell'accademia militare della moda l'accademia ufficiale italiani perché l'italia e afghane stanno andando un accordo quando l'ha nato attaccato l'afghane stanno andando un accordo tutti i paesi dell'alto 40 paesi vanno a studiare nel loro paese per 5 anni percorso su ognuno di noi in Italia spendeva 200.000 euro sul percorso che faccio in Italia un giorno un padre mi chiamano mi dice fra l'altro un po' di settimane tu devo andare in accademia non deve dire nessuno che non hai dato l'esame qualcuno mi chiede che l'hai dato l'esame ho dato online qualcosa racconto sono andato in accademia è arrivata la presentante dell'accademia ha detto vieni sono i bitani che li presentano sul paesano sono arrivati l'accanzamento 20 persone ti chiede tu dove sei arrivato vedi loro un altro esame qualcosa racconto andiamo in automagno e vedi 20 persone tutti gli ex nemici figli del campo stato maggiore figli del ministro del fiere figli del campo di uccellini tutti là mi chiede ragazzi cosa fate qui mi guardano e mandare i nostri padri avete l'attesame e loro mi guardano e mi dicono cosa vuole fare fra loro erano persone in alfabeti non sapevano leggere e scrivere tutti noi siamo laureati in scelta strategico master poi parliamo parliamo della democrazia del paese parliamo perché in quel paese ancora c'è una guerra perché noi non lo vogliamo nessuna opportunità non ha dato per il studente normale per persone che meritano per i miei di un uomo tutti per loro mi ricordo non solo in Italia in america in america cento volte di più in germania cento volte di più in afghanistan nel 2006 sono entrata in afghanistan tutte le vacanze andavano in vacanza non volevo mai rimanere in paese in vedere una vacanza perché per me non sopportavo rimanere quando andavo in afghanistan non avevo scritto tutto il libro tutta la penenza tutte le cose a nome del jihad la guerra a nome di i guerrieri era un 2008 una Pasqua del 2008 volevo andare in afghanistan un amico che adesso il capitale dell'esercito italiano Alessio mi disse farà per favore non vai in afghanistan che ospita a casa mia io ho appena detto che ospita a casa mia a casa mia i fedeli mi hanno detto no no non voglio venire lui tutto il giorno mi ripeteva mi faceva vedere le foto mi faceva vedere le foto perché lui viveva a Lecce no o in bellissimo mare mi faceva vedere tutto lui tipo così tipo va bene faccio così provano ad andare a casa loro se non mi piaccio torno e vado in a casa ma devi fare molta attenzione a me di quel pericolo perché è la prima volta io condividi la vita con un cristiano con un infedele da lui perché non ha mai condivise la vita con lui prima del 2008 no appena sono dovuto in macchina la prima cosa che ho pensato ho detto non devi fare molta attenzione per non farmi diventare cristiano questo è un'interessante l'hanno andata a casa loro la loro mamma ha parecchiato Tauro non ha messo il vino e sul figlio dice mamma è il vino e dice no abbiamo un nostro che è un sul mano dobbiamo rispettare la sua religione adesso invece qualsiasi posto guarda mettete vino sul Tauro perché di me mi può parlare tutto ciò che non ha più di me non ha messo dice no è il nostro il musulmano dobbiamo rispettare la sua religione dicono perché questo infedele rispettare la mia religione mentre la notte dormivo avevo la croce con la sua sopra il mio dicevo adesso perché mi hanno visitato mi vogliono le battezzate perché posso battezzare questa mia mente ha rimeso la prima cosa è rimasto circa dieci giorni in casa loro una notte avevo la fietta della fatta mentre alle due mesi tra le mattine la sua mamma entra nella camera e tocca la mia testa e stesso gesto quando io salmare la mia mamma faceva il suo quello che io chiamo il punto bianco nel cuore dell'uomo non cambia per il potere non cambia con il suo cambia con piccolissimi gesti umanità che tu ci ricordi tra questa e quindi piccoli piccoli altri gesti che ogni volta che conoscevo il diverso che io avevo paura mi riconoscevo ancora di più di stesso e per questo allora adesso sempre dico io fino adesso un anno mese ho fatto più di 250 incontri faccio tantissimi incontri con il dialogo religioso io sempre le dico anche i miei fratelli musulmani le dico io ho scoperto mi ha visto attraverso il cristianesimo questa è la bellezza di un attraverso l'altro ti conosci che stessi di sé arrivato il momento fino a 2008 che avevo un peso forte nel mio cuore ogni volta che andavo in Afghanistan qualcosa che non mi andava mia notte era ero ho detto chi sono io cos'è la mia identità la mia identità viene dalla mia religione io sono musulmano ma io sono l'unico musulmano che non ho mai letto il corano la prima volta ho preso il corano in lingua persiana in Italia e cominciato a leggere otto mesi a un mese per finire quando ho finito a leggere il corano tutto ciò che mi hanno insegnato non lo trovate in nessuna parte del corano anzi in corano tante cose scritte che tante volte ci dimentichiamo tante volte ci dimentichano anche tanti grandi imam non riescono a dialogare con queste cose che scrittano nel corano non lo so chi è il corano è scritto in tante parti del corano prendere la vita e dare la vita a mano dall'altro nessun umano non può prendere la vita dell'altro umano che parola dall'altro in questo momento pallano la testa a nome dell'altro dove è il corano scritto? in corano parla tante parti del corano scritto non sei un musulmano se non credi a quattro libri mandati dall'altro e fra quei quattro libri anche c'è la bibbia se tu non credi alla bibbia tu non sei musulmano taurani incissa purferta quattro libri che un musulmano obbligato a credere a quel libro fra quei libri anche la bibbia che non credi alla bibbia non sei musulmano il corano parla 24 volte di Gesù come uno dei profetti preferiti dell'anno in corano quando ti parla delle donne di dei esempi della Santa Maria e tutta questa bellezza che per tutta la vita mi ha insegnato a uccidere di fedele di paradiso disegniamo un paradiso come che fosse una casa privata e tutto quello era tante volte c'era arrivato il momento che era totalmente cambiato nel 2009 non potevo dire alla famiglia e alla bici che ero cambiato immaginate quando uno nasce dall'ambito della mafia e l'ambito del fondamenterismo era cento volte più pericoloso del mafia e pregava il vero Dio riconosciuto attraverso il diverso e allontanare da quell'ambito tantissime volte non andavo più nelle vacanze in Afghanistan andavo in Francia in Germania da alcuni amici me l'allontanavo da quell'ambito e dal 2011 l'ultima volta che siamo andati in Afghanistan la nostra famiglia in giro nella città dell'Afghanistan siamo scottati giriamo con la scotta in Afghanistan e con due miei guardie sono andato a visitarmi mentre tornavo a casa una imboscata del talibano hanno cominciato a sparare la macchina sono ferito molto grave sulle spalle sinistra il poliette del calasso hanno finito anche la guardia che aveva al fianco c'era la macchina un miracolo sono salvati è arrivata la polizia mi hanno portato una caserma americana hanno tolto il polietto per la cura mi hanno mandato in Dubai dove ho otto mesi di recuperato in Dubai mentre stavo in ospedale in Dubai il dottor mi dice figliola grazie a Dio che sei vivo che ha vinto il vetro della macchina alzata e tutta la forza del polietto l'ha presa il vetro entrata nel corpo se era il vetro passo con il vetro che mi diva con molto forza e il vicino cuore non è detto mentre stavo in Dubai ma io dice ma perché il vetro di Dio non mi ha presa mai la mia vita mi ha dato disponibilità tutti poteri soldi fame tutto nel percorso della mia vita mi ha fatto anche conoscere Dio fatto dal nuovo attraverso chi è una cambiata attraverso le persone che io portavo oggi attraverso le persone che non volevo conoscere ma questa cosa mi ha fatto cambiare totalmente il mio cuore con piccolissimi gesti e quella era la prima cosa che ho fatto tolto il genato del capitano dell'esercito perché sono il capitano dell'esercito ho detto non faccio parte di un esercito che devo uccidere mio fratello per interesse dell'altro perché guerra in Medio Oriente non c'è nulla della guerra in missione della pace non c'è nulla della guerra della giustizia non c'è nulla della guerra in missione della democrazia sono tutti falsi tutti i governi nel Medio Oriente sono guerre per interesse uccidenti sono attaccati sui paesi che si fa guadagnare attaccati sull'Afghanistan perché è strategicamente un paese importantissimo confina con la Cina con la Russia con l'Iran hanno preso l'Afghanistan perché volevano controllo su questi paesi hanno attaccato sulla Siria perché è un paese ricco il padrone hanno attaccato sull'Iraq perché è un paese ricco andate vediamoci quanti attacchi sul Bukharam in Virginia nessuno lo saprebbe perché non c'è lui e quello è vero ho detto cominciato testimoniare l'ha tolto tutto il mio passato due cose mi ha portato il testimoniare anche a vedere tutte le liste perché poi il libro è una uscita facile e l'ho dato per il libro circa due anni dal 2012 fino al 2014 nessuno non voleva pubblicare il libro con tutte la difficoltà tutto il 2012 era che cominciò a testimoniare e a scrivere che poi è diventato il libro raccontare da me stesso tutto ciò che ho vissuto per lui per lui come c'è da fare il primo che io non voglio nessuno cresce come crescere la seconda cosa voglio dimostrare al mondo che sono piccolissimi gesti umanità che cambiano la storia che il cuore dell'uomo è unico per tutti può essere musulmano può essere cristiano e tutti in fondo lo conoscono nel bene quel bene attraverso i piccoli gesti che te lo conosci ti fa ricordare quando nel 2010 una vacanza stata in Afghanistan la nostra famiglia il mio padre connesce da casa con tantissime macchine venite e vengono tanti amicani a casa nostra un giorno un maggior amicano venuto a casa nostra mio padre mentre usciva con tante macchine dovevano uscire da casa era la macchina del soldato e poi la macchina del maggiore il macchina terzo o quattro macchine di uscivamo da casa per un ragazzo di dieci anni cominciato a correre davanti alla macchina dove c'era il maggior amicano cominciato a correre appena vicino tutti hanno detto che andate sotto perché qualcuno si salda si salda in aria questo ragazzino di dieci anni ha cominciato a correre davanti a questa macchina appena arrivato davanti a questa macchina il ragazzino è fermato sono scesi subito l'hanno preso hanno tolto l'esposizione la giacca di schiacciare e poi sapicano venite gli amici mi sono salvato caspita ha detto non ha scacciato il bottone poi diceva il bottone funzionava la giacca espressiva funzionava solo che doveva essere schiacciata io il curioso ma come un ragazzino di dieci anni corre viene davanti aspetta non schiaccia il bottone era portato in casetto io ho detto mio papà posso andare a vederla ma io ero curioso che è l'unica limitata sempre sempre nell'attentato in Europa tutto questo la giuria non è entrata sotto nella stanza ero 10-11 anni tutti i contadini non riesci a parlare ma perché non riesci non hai fatto saltare e lui mi diceva che cosa è insieme l'idea era capace di saltare sì doveva fare col bottone così e si saltava perché non hai fatto perché è per paradiso per cianna no allora non hai fatto no volevo fare ma ho visto quell'uomo che è quel maggior americano sempre quando c'è che ha fatto 5 anni lavoro in Afghanistan in Bagram che è la zona del Capolù l'adattato americano uno in molti mattini che usciva dal base e lui prendeva pari e acqua e dava questi bambini e questo bambino è uno di quelli bambini che sempre diceva acqua e pari a questo uomo quando si è avvicinato a questa quando ha visto questa faccia che lei dava quest'acqua a bambini e il suo cuore non è più spedito per il cuore è quello del cuore che attraverso quando vede e dicevi l'idea impossibile che non cambia impossibile che non cambia io quando vede la mia vita io i miei amici i miei amici adesso sono i miei amici anche ufficiali italiani quelli che stanno prima del 2008 mi conoscano fanno fatica di capire e dicano prima del 2008 tu non parlavi con noi prima del 2008 sempre quando mi vedi come faccio io così adesso testimoni i bambini cosa mi ha capito e quel piccolo cesto il 2012 era che lo sapevano per l'attentata cosa mi è successo l'Italia mi ha portato in Italia mi era andata asilo politico subito in 20 giorni mi era andata asilo politico perché lo sapevo che aveva cantato tutto erano tutti inescrivo 8 mesi per testimoniare questo che poi mi ha portato lì e su casa semplice tutti mi evitavano di pubblicare tutto con molta difficoltà nel 2014 una casa semplice piccolissima uscì e guardo il mio libro e guardo la vita centinaia delle persone centinaia delle scuole che sono andato il cambiamento che dopo il conto quando succede fra i miei ragazzi due giorni fa è successo prima che raccontavo la mamma dopo l'incontro mi viene e mi dice ecco la mia figlia Giulia mi dice tutto il giorno lei mi sentita un po' di mesi fa nella sua scuola tutti i volte mi diceva io in zona di Milano faccio tantissime presentazioni e tutti i volte le diceva mamma questa volta quando farà una presentazione ti porto conosci io dicevo no no non ho voglia quando la vita hai presentazione due giorni fa vicino a Milano e lei mi ha incontrato ha detto mamma per favore vieni con me ha detto io ho venuto non per te perché io non ti conoscevo io in tante presentazioni sono andato e ho detto ancora questi passano che è da presentare ma io sono venuto per la mia figlia quando ha detto il saluto ha detto finito l'incontro lei mi ha detto e mi disse ho capito cosa io mi comunano e quel Dio ha detto io non ho mai parlato da mia figlia rapporto con Dio la presenza di Dio ma la presenza di Dio ha avesso te le hai riconosce e cumula cosa a noi i nostri disegni e quella del cuore è il stesso e per questa cosa dico che ognuno di noi prima quando cenavamo Teodè ognuno di noi possiamo cambiare la storia di un altro ma è importante continuare i piccoli gesti anche un saluto anche un abbraccio anche con una persona dire come dichiarano cambiare la storia il mio amico il mio amico in Germania viviva Ottvan in Germania viviva 2014 è andato in Siria a combattere molto il motivo è che è andato lui a combattere in Siria perché io quando andavo in Germania lei non farò sempre la prima cosa che lui mi diceva mi diceva farà Dio vivo da Ottvan in questo palazzo ogni volta che prende a Cianzone i vicini di casa non mi salutano perché non mi salutano perché loro mi considerano musulmani e lui viveva una società che si è abbandonato si sentiva solo abbandonato un giorno che l'altro c'era andato in Siria e poi anche a quel ragazzo mio amico poteva salvare un vicino per casa un abbraccio poteva salvare la sua è importante che continuare il piccolo gesto grazie un'ora ci siamo stati dal freddo passiamo a marcando domande? lasciamo uno spazio ci sono però faremo appunto sapere se i vicini di Ascari per il mondo riescono poi a contattare a avere rapporti ancora con le vostre amici in Ascari è così difficile far conditare quello che lei questa sera raccontava a noi? guardate che parte afghani parte la società occidentale non dà l'opportunità ai afghani per costruire il suo paese il mio libro non ha finanziato la governo adesso il governo parte ha fatto non distruggere queste vicine il popolo e la gente non dà noi abbiamo fuga dei cialetti quando la prima volta è successa la guerra i fuga dei cervelli afghani ma nessuno non la danno l'opportunità loro dovrebbero costruire l'Afghanistan perché lo sanno se costruisce l'Afghanistan poi interesse e guadagnano miliardi e miliardi sull'Afghanistan sulla terra per questa cosa sempre non hanno dato l'opportunità loro è dato l'opportunità di quelli che per loro vanno a creare di quelli volevo chiedere il titolo l'ultimo di un ruolo bianco cosa significa devi comprare il titolo no il titolo sul libro lo parlo da Lenzo ma il titolo il bianco e due cose nella mia vita erano molto significativi il colore bianco e Lenzo il colore bianco del mondo è il colore della pace io prima del 2005 pensavo il colore bianco quello che voi tutti credete che il colore della pace anche adesso io credo il colore della pace io pensavo il colore della violenza perché la bandiera talibana fatta dal colore bianco io sempre vedevo sotto quella bandiera tagliare le test l'abitazione e tutto la prima volta quando sono milioni in Italia era il 2005 che se erano ospitati nell'ambasciata venezuela era la roba siamo andati nell'ambasciata vedo tantissimi bandiere bianchi appena visto tante bandiere bianche mi sono spaventato subito ho detto l'autista mio padre mi disse ma perché sei spaventato perché cosa è successo io dico queste bandiere bianche mi ho detto allora cosa sta succedendo e lui mi ha spiegato il significato del colore bianco che lui mi ha spiegato il colore bianco del colore della pace e questa per me era immaginare tante persone una stessa ed era il lenzolo perché il tempo delle bianche quando mio padre è andato a caccia con i fratelli scappati siamo rimasti molto poveri che dove descrivo la povertà mia in tempo delle bianche liberi non avevano niente da mangiare non avevo nulla io avevo un lenzolo solo da notte dormire basta non avevo nulla altro muoio padre del mio amico si ama loro anche fa molto poco il musulmano mette una cadavere dentro un lenzolo per funerare loro non aveva anche quel lenzolo io do il mio lenzolo al mio amico per mettere il cadavere del suo padre e questo gesto è rimasto nel mio cuore dice ma perché anche se io ho nato un amico così violento che vi devo sempre la violenza avevo un dono verso l'altro anche questa dimostrazione che è il punto bianco del tuo cuore sempre allora ho messo il titolo l'ultimo nel suo bianco sono orgogliosa di sapere se poi ha avuto modo di approfondire a livello intellettuale il cristianesimo solo così e la seconda domanda è che rapporto ha conservato con il suo padre nel momento in cui ha cambiato diciamo parte cristianesimo io ho un rapporto molto astinto su cristianesimo il cristianesimo è una cosa che ha imparato attraverso l'amici non ha avuto tanta ideazione della legge della biglia perché ho cominciato a leggere la biglia poi come tutte le religioni è molto ampio ed difficile ma uno un altro mio caro amico con molto fedele cristiano mi ha detto cosa devo fare io li sono curioso da leggere questa bibbia lui mi ha detto vuoi imparare la bibbia cosa ha scritto ha detto fai un percorso con cristiani amici secchi cristiani e poi scopri il cristianesimo e veramente per il percorso con i miei fratelli cristiani io scoperto molto bene il cristianesimo anche a me ha aiutato molto che il percorso religioso che ti fa compilitare la tua se la religione diventa studiare una stanza e la religione diventa fondamentalista la religione non deve essere un percorso adesso per esempio con mio tanti afghani tanti musulmani la prima cosa che vi dico percorrete vostro la religione musulmana con un percorso e scoprite bene e per questo è qualcosa legame molto molto stretto il cristianesimo ho tantissimi ricordo del cristianesimo poi in fondo quando andiamo sulla cosa poi andiamo che tutte le regioni sono le strade istante una strada per arrivare a Dio cristianesimo una strada per arrivare in fondo e l'obiettivo è arrivare al stesso Dio rapporto con mio padre mio padre dal 2012 non mi padre non per che non mi considera come un figlio perché mio padre è un uomo che ha studiato molto ha fatto in giovane quando era giovane ha fatto accademia in Russia ha fatto tantissimi giri del mondo è stato come un ingegnario un ingegnario molto pedale d'oro un uomo molto accaduto secondo me non parlando non parlare con me abbandonarmi per proteggere la mia vita perché io ho smascherato il fondamento ho smascherato tutti i guerrieri in afghani quelle che hanno fatto crimini sono in questo punto loro sono in potere se mio padre dice è mio figlio e loro dicono tu non puoi controllare il tuo figlio e parli di questo grande d'altamoghellino e lui dicendo che non hai più mio figlio secondo me è un'ottima rapporto con mia sorella perché loro lo sanno anche da loro perché mia sorella come tutte le donne non hanno avuto una sorella aveva 14 anni mio padre l'ha fatto sposare della paura perché nel tempo di Mugelli prendevano le donne e portavano le vie per la paura dell'ha 14 anni l'ha fatto sposare un'altra aveva 15 anni l'ha fatto sposare il rapporto con la mamma è un ottimo rapporto lei era una donna che mi ha aiutato molto dal percorso con sui piccoli gesti con sui anche era sottomessa era sempre aiutato mi ricordo quando eravamo in Irland venivano tantissimi Mugelli in a casa nostra a casa nostra era ospitato per due mesi il leader di Mugelli che l'ha dato la prima volta la guerra è stata contro l'Ursi lui dopo la guerra è stata contro l'Ursi tutta la violenza e Cristo era pentito era a casa nostra per due mesi lui parlava sempre male di Mugelli diceva io Mugelli pensavo che sono guerrieri che lottano per Dio per vero Dio ma lottano per pepe del popolo ma sono usciti tutti i criminali lui parlava tantissimo io avevo 15 anni quando lui parlava io c'era il mio libro non raccontano una storia non raccontavo io sempre ascoltavo perché tante volte quando lui parlava della violenza di Mugelli io andavo a cucinare e mi fanno cucinare io dicevo mi ricordo diceva mia mamma ma noi siamo così cattivi la mia mamma diceva perché noi facciamo parte mi ricordo la mia mamma diceva non è importante il buono e il cattivo è importante il tuo cuore se hai il cuore buono non ti metti mai il cattivo ma tu hai il cuore buono mi diceva tieni sempre il tuo cuore buono le parole in quel momento ti fuggono ma quando fai un percorso sono le parole che tu pensi che neanche hai sentito messo da fare io conosco parecchi musulmani di cui ho grande stima però non devo pensare che per loro Gesù è sì un profeta di cui noi cristiani abbiamo capito zero la dico terra terra questa cosa non la devo pensare perché allora comincia a diventare molto difficile parlarci perché parliamo su piani diversi non so come spiegare la funzione mi ha inteso il problema ok e cosa intende che per loro guardate che se noi andiamo nel fondo dal diato se io dico che Gesù per me di Dio per te profeta non andiamo d'accordo se io dico per i brei dico che tu non accetti quello io non accetto se io dico ai cristiani che tu non accetti il profeta amo non accetto questo accadriamo contro la volontà di Dio Dio non ha creato il mondo non ha creato Dio la religione Dio è creato l'umano l'umano ha deciso di scegliere la religione parla di fare Dio come ho detto prima se noi andiamo a fondo dal diato andiamo a fondo dell'umanità delle persone non è sbagliato mai io ho miglior amici ebrei miglior amici cristiani perché io non vado presente Dio io io dico Dio nostro tu lo preghi il tuo mondo e lo preghi nel mio mondo in fondo cosa comunica la umanità della persona e quello devono capire i musulmani che è la cosa che conta la umanità che unisce io vorrei farlo appunto e innanzitutto ringraziarvi perché è portato un un ottimo esempio ma soprattutto che è strappo da questa esperienza che la televisione ci contagia molto che dovremmo lasciare spenta la televisione e parlare di la esperienza perché se ne prendiamo solo la televisione noi ci fanno vedere i musulmani come solo gente che ammazza e non gente come te che si può dire che comunque dentro è pura e aiuta a rinforzare un'esercizio e forse per questo che tante volte rischiamo di vedere le persone musulmani come per forza dei terroristi e poi appunto per quello si deve essere questo discorso guardate che io ho avuto un'ora a me per la fazione del mio libro domenico che questo voi conoscevi un giornalista nella stanza che era in Siria però l'unico giornalista che va nel fondo nelle guerre prima ma poi racconti e la mano faceva un presentazione insieme con le tecniche del Torino lui ha detto mi vergogno per dire che sono giornalisti giornalismo non esiste quelle che voi leggete 99% delle cose che non sono vere la risposta nella mia vita sull'Afghanistan io racconto tanto per esempio parlo di giornalisti italiani non dico nome perché non è giusto venuto in 2009 in Afghanistan un giornalista in India Afghanistan venuto era due settimane a casa uno dei leader di Mugini a casa sua e la mamma non è qui scena tutto tutto una uscita da casa perché non ha permesso che il giornalista uscita perché gli esercitano non hanno permesso però viene quando è tornato venuto in Italia dopo sei mesi è uscito un libro dopo un po' parlava dell'Afghanistan in maniera e non dice che apposto dal cuore che mi batteva in quello che lo vedevo quello è il giornalismo poi tanti giornalisti sono ascoltati cioè con le medie presenti non raccontano mai la verità che succede sono tanti tv immaginate quando parlano della realtà fino adesso avete sentito sul giornale che il giornale disse che su un bombardamento dell'Afghanistan sono morti 82 persone nel matrimonio non una volta succede centinaia o qualche successo in Afghanistan che bombardavano e sbagliavano un bombardamento sul matrimonio 80 90 100 persone e se si parla sull'Islam adesso quando parla dell'Islam come dicevo prima ma hai detto giusti tu Islam Islam fondamentalista ma si dimentichi che il fondamentalismo nasce dal 79 ma Islam non è la fegione allora il problema non è dell'Islam non è dell'Islam il problema è dell'uomo il problema quando in Europa per la identità vediamo fra giovani vediamo fra attentatori tutti attentatori sono attentati che l'hanno fatto andiamo in fondo erano le persone che non seguivano non andavano mai nella moschera le persone che si drogavano le persone che erano in società che già hanno fatto tanti crimini rubavano tanti persone che l'hanno abbandonati dalla società quando una persona viva nel nulla nella società non è una persona a farlo non è vista può essere chiesiana può essere musulmana può essere pressa e quella è un rapporto e per questo è cosa dico in tante scuole la prima cosa che dico se volete riconoscere la storia di un musulmano andate in fondo a riconoscere un musulmano se anche non siete l'acqua andate in fondo vedete in un fondo trovate un punto dove comuni il vostro cuore quello che si dedica allora ringrazio ringrazio perché due innanzitutto il Signore è da scoprire è un percorso questa cosa non è che uno ha in tasca tutto ha capito tutto ma che è un percorso è un percorso da seguire è un percorso da imparare è un percorso secondo che Dio è presente attraverso dei piccoli gesti attraverso noi attraverso un'umanità nostro semplice attraverso l'umano così semplice così limitato con una mamma come una persona normale Dio è presente attraverso la semplicità dell'umano queste due cose sono affascinanti sia per l'uno sia per l'altro tutti siamo sempre alla ricerca Dio perché Dio come dice proprio Francesco ci sorprende sempre il libro ne abbiamo poche copie non so se ce ne è ancora lì ce ne è ancora una cosa è un libro veramente bello che parla molto di tutto quello che ha detto stasera ma soprattutto è un libro storico chi non sa la storia anche io dicendo mi sono scoperto poi mi avrà c'è una premessa in ogni capitolo una premessa in Corsico che racconta la situazione storica di quegli anni dal 1986 quindi anche una bella fetta storica per noi e soprattutto anche per gli ovni per i figli e raccontarli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti